Amici 22, anticipazioni registrazione sesta puntata, Eremon a rischio eliminazione. Chi è finito al ballottaggio al termine della sesta puntata di Amici 22? Chi è l'eliminato di questa settimana? Si è da poco conclusa la nuova registrazione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi. I cantanti e i ballerini dello show hanno dovuto affrontare tre nuove intense manche che hanno poi portato alla proclamazione dei concorrenti a rischio eliminazione di questa settimana e la giuria, ha deciso il nome del concorrente da far fuori dal cast. Le anticipazioni su questa sesta puntata del serale che vedremo in onda sabato 22 aprile nel primetime della rete Ammiraglia del Biscione rivelano che Cricca e Eremon sono finiti a rischio eliminazione. I due concorrenti non hanno convinto la giuria e, di conseguenza, uno dei due dovrà lasciare definitivamente la scuola a termine della puntata trasmessa sabato sera su Canale 5. Terzo concorrente presente al ballottaggio il ballerino Mattia che, tuttavia, è stato il primo ad essere salvato dai giurati dello show. Nel corso della sesta puntata dello show, sono stati presentati anche i nuovi inediti di Cricca e Angelina. Ospiti di questo sesto appuntamento del serale, la cantante Gaia Gozzi, ex vincitrice del talent show, e il comico romano Enrico Brignano. In attesa di scoprire il verdetto finale del pubblico, cresce già l'attesa dei fan per la finalissima di questa edizione in programma domenica 14 maggio. Chi sarà il vincitore assoluto dello show di Maria De Filippi? Nei sondaggi sociale web, la super favorita sembra essere la talentuosa Angelina, componente del team di Lorella Cuccarini. Con la sua potente voce ha saputo conquistare il pubblico e, adesso, per la finalissima dello show, potrebbe portarsi a casa il monte premi da 150.000 euro.